Avevano studiato il colpo nei minimi particolari, ma non avevano tenuto conto della possibile reazione della vittima, che alla fine è stata addirittura investita. Poteva finire molto peggio la tentata rapina messa a segno da due malviventi a cura Carpignano. I due rapinatori, uno in moto e l'altro a bordo di un'auto, hanno preso di miero un corriere impegnato in un giro di consegne. Quando l'uomo si è fermato ed è sceso dal mezzo, uno dei due criminali ha aperto la portiera del passeggero del furgone e ha provato a rubare alcuni pacchi dall'abitacolo. Quando il corriere si è accorto di quanto stava accadendo, ha cercato di affrontare i due, venendo però investito dal complice a bordo dell'auto. L'altro rapinatori ha provato a fuggire in moto, ma è caduto dopo poche decine di metri, venendo infine bloccato dai carabinieri, intervenuti nel giro di pochi minuti. Si tratta di un 52enne pavese incensurato, nel sottosella aveva anche una pistola calibro 7,65. L'arma è stata ovviamente sequestrata, mentre il 52enne è stato portato in carcere a Torre del Gallo in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Il corriere è invece finito a San Matteo per i controlli del caso. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Gli uomini dell'arma sono ora al lavoro per risalire all'identità del complice fuggito in auto.